Ciao ragazzi, direttamente dal Mobile World Congress di Barcellona, abbiamo qui con noi il moto Into, un concept di auricolare Bluetooth, davvero particolare, davvero molto piccolo e davvero interessante da vedere in futuro. Ci è stato detto che arriverà presto anche sul mercato italiano, non c'è stata precisata una data. La sua particolarità è quella di poter gestire il proprio device direttamente dall'orecchio, comodamente, senza alcun cavo, ha una batteria ottima di tre ore e mezza di conversazione e grazie a questo accessorio è possibile ricaricarlo fino a due volte e quindi arrivare fino a dieci ore di conversazione. Davvero un accessorio interessante che speriamo di provare presto. È tutto per Spazio Tech.